Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel canale Sillustrice bentornati nella nostra serie di competitive speriamo pro nell'anima siamo in compagnia di Guasta di Ciper, Ariman di Ciper ciao ragazzi Ciao a tutti ragazzi sempre gasati e pro nell'anima siamo su inferno ragazzi e logicamente speriamo che inferno sia sempre per gli altri come mi piace dire e quindi possiamo procedere 10 per illuminaci con lo start della partita incrociamo le dita e tutto quello che è incrociabile molto molto bene allora ragazzi siamo pronti a partire siamo chiaramente contro un team completo i SED detti noobs e siamo con Bon Voyage, Ganzaire e anche basta perché gli altri siamo noi perfetto ragazzi dove andiamo? andiamo A possibilmente vediamo assolutamente sì tutti A siamo tutti A tranne ok ci stiamo un po' spartendo attenzione Bon Voyage per noi vengono B vengono B vero? eh non ci muoviamo subitissimo sì invece sì sì invece sì te l'ho detto infatti andiamo 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 uno sta andando verso mid arriviamo 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 eh c'è uno che sta camperando lì da qualche fa dietro 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 aspetta sulla sinistra ce lo potete fare sinistra sinistra aspetta aspetta ok ho due te l'ho detto eh te l'ho detto ok devo aspettare tergiversare se l'altro non interviene la fine l'altro è già su B eh ok sto attaccando aiutalo aiutalo vai 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 è a destra ecco mamma mia non ci posso credere nice due di vita nice sì te la fai? dovrei farcela 3 2 1 ok nice davvero nice buono perfetto era meglio la mia siero eh però buona no vabbè ho trattenuto il respiro perché ho detto da fuck dammer capitaliste yuppie nice ok allora mentre Stenus legge la chat noi scioppiamo come dei dragoni svizzeri ragazzi molto bene rilassati e arroganti intanto possiamo notare il sangue rosso di Beppe detto Arimandich uvitsons guys ho trovato un posto su church bellissimo però siamo due su a non va ok no no sta arrivando anche il church ok cerco il coprire short Beppe esattamente ok ok non c'è nessuno al momento mi raccomando la rotazione guasta falla da dietro eh sempre non andarti a infilare in banana che non mi ispira neanche un po' questo sta attaccando la banca appartamenti eh appartamenti ok copro il balcone per adesso balcone short ok bomba drop su short bomba la tiro su appartamenti per sicurezza molto bene stiamo camperando la bomba eh guasta quando vuoi venire no no sono ok prendetela la larga va benissimo intanto ci sono gli uccellini che cantano su church take me to church attenzione è dentro l'appartamento ok uno l'ha rasato giù attenzione su long anche eh esatto Pe esattamente perfetto guardami long così evitiamo scherzetti 35 secondi vado in pit vado in pit vado in pit e me ne sto bello silenzioso eh è qua è qua qua ok ok verissimo nice guys si sono sparati da sole si si erano grovigliati ottima massa ok io sto tremando dal freddo ragazzi un buon segno per lo Strenus che morirà tipo sul pc allora mentre lo Strenus sta morendo congelato noi continuiamo a sciopparci le chiappe è il momento del vediamo un po' della Franklin di Strenus ok ok go straight from Bolivia guys smoke buon voyage ne ha già fatto secco uno brucio balcone vado a pe e mi guardo ok perfetto sono B sono B sono B ok arriviamo arriviamo almeno uno uno solo l'ho visto c'è uno l'ho ammattato e uno l'ho ammattato beh da dove passi da mid o ok e non so se andiamo quindi perchè si si sto andando via allora unere sta attaccando la B ed è stato marcherato con il lucecchino buono temo che siano ancora banana si flash flash attenzione bella Strenus davvero bella manca solo uno bomba drop lì eh flash anche la mia flash anche la mia beppe attento è lì davanti credo passi si no fuck 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 beh pensaci te ok è dietro lì eh non facciamo scappare già no eh fatelo fuori è dietro la legnaia lo rushi rush 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 come un drago bravissimo nice bella pulita arrogante prendigli la capa se vuoi se no lo lasciamo lì no no mi tengo questa adesso ok allora 3 a 0 ragazzi easy per adesso ma come ben sapete questa mappa credo sia terrorist per i più esperti mi possono contraddire in qualsiasi momento ma appunto sappiamo che quindi ci stiamo comportando al meglio attenzione vediamo move it move it vengono a sicuramente dobbiamo però ottenere meglio a ragazzi perché secondo me qua stiamo un pochino può essere buono così fa vedere può essere buono sì mi stai guardando sia balcone sia mezzo short giusto? si short non proprio benissimo allora dato che tu copri lì io allora vado su long mortale da evitare che passino questo attacco con l'avp da banana morto appartamenti eh si potrei uscire da lì tu lo vedi? no perché sono dietro di te sono mid no no nel senso se esce dalla porticina io dalla porticina quella su short si ah ok attento eh si sono due ragazzi sono due ragazzi si comunque siamo già noi aiutateci aiutateci su a eh fuck non abbiamo tenuto niente qua qua ci hanno sfondato no era meglio era meglio se rimaniamo chiesetto perché appena sono andato su long abbiamo ceduto rimango così Beppe al limite giriamo però niente di grave allora vediamo si abbiamo fatto sto cambio che non è stato molto tattico anche perché appena ho lasciato mid è arrivato mid infatti stranamente manovra del caso life allora vediamo un po' meglio se rimango su church siamo due su a ragazzi quindi vedo di chiamarvi un altro one more hey guys no è fermo mister ah è fermo ah si passi dentro appartamento ok arrivo già si viene raddoppiarci si è mosso 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 ok sta arrivando ah si appartamento quello che sta con me in via non si è buttato non si è buttato dentro l'appartamento ed è morto bravo bon voyage di nome di fatto penso stiano andando verso il balcone te lo copro io balcone si balcone fatto attenzione eh cercano di farmi balcone sempre balcone uno passi passi in qui a cazzo voglio sorry a chi hai sparato eh ho sparato al mio perchè si è spostato invece se c'era venuto no ha fatto balcone balcone arrivo io balcone stai lì stai lì siete due contro quattro ragazzi eh eccolo va spostissimo attento no sono troppi sono troppi si troppi si attaccati e aratti attento per ok vai troppo giù 3-2 3-2 ragazzi allora il concetto qual'è che su A non lo riusciamo a tenere così facciamo un camp vabbè che io ho un eco io no no eh ecco ecco facciamo un eco e basta ecco guys un eco un eco please no è che il nostro arancione non è neanche intervenuto subito è considerato che l'altro è un team intero quindi dobbiamo stare attenti comunque tendenzialmente abbiamo visto che non si dividono no cercano di rushare in gruppo e fanno abbastanza bene visto i risultati adesso io faccio una cosa faccio un po' una variazione cerco di andare verso appartement per quanto questo sia un eco raga quindi allora probabilmente vengono A perchè io una banana non c'è nessuno ancora si anche secondo me vengono A però vado a prenderli da dietro si però sta attento con quei rush su banana perchè te pensi di andarci lucido ma ti aspetta al camper ti fa secco subito c'era un slide eh infatti allora uno viene da balcony mamma mia balcone one balcony si si è passato è su balcone proprio sta per sparare su balcone esce da livet attentissimo qua state guardando tutti dalla stessa parte ha fatto il giro ha fatto il giro va bene dai calvi tutti vediamo subito chiaramente la nostra zero life 3 a 3 pari la partita è morbida ma non lucente va bene soldi li abbiamo ok 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 ready to search nice what's up I give the end guys eh vengo in B proprio in mente dici? si uno c'era qua e l'ha ucciso ok copro una lagone sto coprendo balcone io come siamo essi su B? al momento non si viene nessuno ecco me l'am dead ha detto è fatto tutti i B tutti i B almeno 3 B l'ultimo parlo a favore 3 B 3 B nice io sto sparando ai miei benissimo nice anche questa se non slife si lamenta e spara ai suoi spaccato la testa amore morto anche lui ragazzi allora siete 3 contro 2 si la bomba praticamente è ancora in banana solo che siete dalla stessa parte cercate di coprire il meglio eccolo perfetto uno andato esci te esci te la sulla sinistra è lì davanti a te davanti a te nice 2 contro 1 bel tipo la la bomba non è drop cioè se non ha piantato e non è su B sarà su banana ancora forse fa il giro da dietro forse va su A si per me fa un rotate epico sicuramente va su A rotate epico questo sta andando su banana quindi fai il giro esatto rapidi ragazzi a giro rapidi a giro fate su A ce la fate in tempo state arrivando però questo dovrebbe aspettare un attimo perchè se l'ha attaccato in due è meglio si sta attento per tira fuori già l'arma perchè potrebbe essere anche qua in giro ok no è dentro Site è Site lì dietro l'angolo esatto bravissimo nice pulisci e rapa molto bene defusing defusing c'è ancora il fucile sangue freddo qui il P90 che fuma ce lo fa vedere senza doppi sensi attenzione va bene allora vediamo un po' nel momento del bisogno si mostra proprio nella sua crudezza e dunque va bene dai dobbiamo tenere così mani congelate eh uno su B giochiamo dal polo nord tutti quanti allora vediamo granate si vai su vai su B si facciamo un rotate con un 10x che siamo già più affini su A allora cosa mi guardi i 10? io vado su appartamento ok allora considera che ne ha spaccato già la testa su niente quindi passi su appartamento sta attento a sporgerti guasta nel solito posto dell'angolo perchè è bravo il tipo lì per ora per ora non c'è nessuno no sono ma vengono A bravissimo veniamo? si si venite ragazzi venite eeeh mi attacca sempre il 2 buono l'altro poca vita benissimo ragazzi bomba drop su pit un aiutino sarebbe richiesto e anche utile guardate nooo ok l'ho visto l'ho visto l'ho visto porta è esattamente alla porta ok quindi posso arrivare da su poi sta uscendo sta uscendo la porta non potevo uscire non sbagliare lei ti fa giro da long era meglio church qui non vedo una ceppa qui non vedo una ceppa un passo che l'ho ucciso presente quando si sente puzza di sterco a livello eclatante ma non sai che stai per pestarla silenzio ecco oh oh eh no non lo frega non lo frega life mossa di jaguaro ragazzi guardate intanto subito la mimetica dello strenus 100.000 euro molto bene 5-3 ragazzi 5-3 non siamo finiti e non abbiamo perso quindi calmito perchè devo continuare a sfidare proprio vabbè meglio che stia zitto andiamo avanti torna su B se vuoi torna su B beh per quando siete in difficoltà logicamente dillo con un largo anticipo perchè la camminata è lunga per noi quindi nice ma non è sicuramente più facile si considera che B non è sempre fatto perchè è un po' più difficile ha lo smoke up mid ok smoke mid everyday smoke grenade it's injury grenade belt BBB be like a fish si si sicuro venite venite si si guà che famo andiamo 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 attento eh ti copro da dietro andiamo per fortuna no fuck eh non so non ho visto morire davanti allora considerate che la bomba è droppata lì eh quindi ragazzi calmi non fatele via prenderli l'importante è quello mi ho fatto nel rovaccio io e te si ok qui adesso sei messo molto male Beppe passi eh se la svinia sua però me se la svinia non passare da banana perchè ti inchiappa non sicuro 10 a 1 passa dritto per dritto ma se la siamo giocata male ma è sua l'ho sbagliato io e te qui no è perchè non dobbiamo andarci no dobbiamo temporreggiare di più tanto loro dovevano uscire si anche perchè poi ci siamo andati morbidi ma considera che c'è sempre il camper che copre banana dietro quindi andarci morbidi così di corsa non è stata la mossa intelligente però ci rifaremo silenzio adesso a era buona vi ho poca vita poca poca vita l'hai preso non so ho tolto due colpi l'hai preso 80 eh infatti l'hai preso anche bene ecco guys ecco guys please ecco partita delle più blasfene si partita classica comunque siamo antiterra adesso eh quindi calmi tutti secondo il principio una mappa terra una mappa terra questa dovrebbe essere umappa terra si cioè almeno secondo le statistiche dello strenuous life non so se poi sono quelle corrette di solito quando attacchiamo recuperiamo non mi vado dentro l'appartamento io va bene vai te io copro di qua mid beh coprimi dall'altra parte mid sì infatti infatti capito tanto se blocchiamo quella zona non passano smoke mid Ecco, appartamento Due appartamento Due da balcone Eh, ma ha fatto anche a me Due, tre da balcone, vabbè, qua eravamo Senza armi Ok Bravo Questo c'è una superpotente E questo prende l'arma, ragazzi Ah, ok Sto continuando a tremare, sono preso dalle spasmi Molto bene Sì, anche noi Per me non è il freddo, è la tensione La tensione Sto tremando come una foglia Il life, tremallone Molto bene 4600 dollari per il life 7,6 Comprano gli altri Sì, compriamo Compriamo Like a fish E poi Una doppia flash Mi piace Vado spesso dal Sì, vado io B Perché qua Mi sembra che l'indecisione regni In realtà, esatto Vengo A Vengo a palese Allora, beh Mi raddoppi su Per favore Su balcone Su balcone Mentre io e guastone Ci copriamo mid Ok, allora sono dentro Appartamenti Usciranno da balcone o da mid Basta rimani lì Sto approvato E' approvato, sì Arriva in balcone 10-1 Bravissimo Bravissimo Perfetto Qua nice Indietraggio leggermente Ok Stato preso in due Come un sandwich Si è proprio girato due volte Infatti Mamma mia Non è che è morto questo? Balcone Sempre Balcone, sì Fatto Brav Dentro Last è da guasta Arrivo Sì E' dentro l'appartamento La bomba come si è ammessi È da lui Sì Vado su B Ehm, sì Vai su B Gira su B Mi manco io No Gira su B perché è sicuramente andato giù Sta a vedere come mi esce No, ha tirato una flash qui Eh, sento passi infatti Non è andato B Ha tirato una flash Fatemi indietro Sì, no, magari è una Un flash Sì, sì, è qui Beppe Ce l'abbia a noi Al 5 secondi Adesso non ce la fa Non ce la fa Però non facciamoci ammazzare perché Queste armi me le voglio tenere Ma lui ha poca vita Comunque l'ho portato Si è buttato sicuramente dalla finestra Perché Si è buttato scappando come un verme dalla finestra 6-5 classica Classicissima ragazzi La più classica delle partite Vedete bene delle bibite live Perché qua andiamo avanti fino a notte fonda con i live Dai così, nice Molto bene Allora, vediamo un po' Mettiamo un genio di conosciti Urla No, questo è qua Raga, siamo due sua Siamo due sua Sì Beh, vieni che raddoppi Sì, perché ho fatto la finta Sempre balcone il tuo Vengono a proprio Ricordi che stiamo facendo sta mossa ripetutamente Guast Quindi Aspettati uscite di pre-fire Adesso me la prendo un po' più larga Tu lo vedi prima di ben teoria Allora, io ti vedo l'angolo Non vedo però la porta adesso Ma se esce la porta lo raso su Io guardo la porta Allora Allora, questo continua a rasciarli E continua ad essere ammazzato No Dietro Da balcone Balcone Eh, è passato anche su mid, basta Va bene, dai Siete due contro due Rasati entrambi Sta scendendo dal balcone se non erro Esatto, sceso T'ha visto Madonna Eh, lo so Non so perché ha intergiversato così tanto a sparare Eh, ha intergiversato e mi sparavano se non mi avesse visto No, no, t'ha visto, t'ha visto T'ha visto il forno T'ha visto E ha rasato anche l'altro Nice T'ha visto e mi ha fatto anche saltare la testa Sì Sei pari Toccacchi di balcone Vengono sempre da lì Sì Se vuoi Cioè, non so O Beppe si mette dove mi metto io Però glielo devi dire Cioè, glielo fai vedere dove è il posto Perché sennò è inutile Eh, voi comprate Sì, sì Spero che cosa Mi prendo Guardiano dei Ceoli E mi metto l'appartamento Va bene No, il problema sai qual è? Che il nostro arancione Continuamente Rascia Eh, va a rascia Muore Cioè, rascia subito È chiaro che si apre un buco Allora, dividiamoci Beppe devi Se ce lo fai vai dall'altra parte Speculare Esatto, attento lì Nid, eh Ok Ti metti lì dietro Perfetto Cerchiamo di coprire mid Come dei gasanti Arrotai Arrotini Arrotini Guarda come rascia Guarda come rascia Questo non è Bravo guasta Nice Mamma mia, nice Devorarti supporto Telo lì, telo lì, telo lì Ce n'è un altro Poca vita Scappo via Va bene Non so più appartamenti Eh, bambi, ragazzi È uno solo Era ancora appartamento Be guys, be Sei sicuro di quello che ti dici? Non è vero Dico falsità No, no, no Fuck Stupidaggino ho fatto proprio Mi sta sparando Lappertutto Dov'è? Merdo È praticamente Vicino Come posso dire A tunnel Non sapete dov'è Assolutamente sì Vabbè, c'è bomba drop Ok, raga Teniamo il bomba drop Nice Non morite, vi prego Perché io ho quattro di vita No, infatti Allora, ragazzi Cerchiamo di coprire la bomba Dove è Dove è andato? Ardivente sta girando lui Sta girando e ci verrà a prendere È rimasto Rambo Io cerco di coprire la bomba Da vicino Ecco Diciamo che la ranzione lo sta andando a stuzzicare 20 secondi 20 secondi Nice Bravo L'ha stuzzicato È un pazzo Ha funzionato sto mangi 7 No, il mangi 7 non se lo aspettavano Anche perché li hai presi proprio di prepotenza Molto bene Chiaramente non lo rifai adesso Quindi Calmo dietro No, dico e come Cioè non per farlo spavaldo Ma io non ci proverei adesso Boh, adesso la vedo Vedi te La vedo Sono già nella tutta Sì, la vedo Sono già là dentro Vado qui ragazzi stavolta C'è il nostro viola Che sta laggando Come No, non è vero Sono io che lo vedo laggare Nice In realtà si può che lagghi Tutti laggano Gioco Sterkus Via Attenzione Life is now Strenus life No, il viola sta andando avanti di prepotenza No, ne fatti due secchi No, un altro appartamento 3 contro 3 Eh lo so 1 è sicuramente B 2 Cosa faccio dimmi? Siete 2 contro 2 siete Aspettate Secondo me vanno A Però non ci metterei la mano su 2 Stiamo 1 A 1 B L'attesa del guerriero Sento puzza di A Ma non lo so Passi Passi B B B B B B B Corri 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 Nice 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 Il jaguaro Strenus Camper d'irlanda La vecchia tradizione del camping E lo fa Nice Ok 8-6 8-6 Dai che sia lì Dai che sia lì Tom Mag 7 ha regalato emozioni Isperate Si Ma il Mag 7 è comunque della tradizione È della vecchia tradizione del life Fucile a carne e mossa E così è che è il corrispettivo del carne e mossa E lo so Quindi chiaramente essendo della squadra del life Adesso però non lo faccio più perché No no Così è che sono azioni quelle che vanno una volta Dopo è chiaro che si preparano Si un paio di volte funziona No si può stare Si può stare Va bene Io torno su B con il nostro amico Viola Il nostro Gansaire Ah questo è lì Gansaire comunque è a rush a troppo Nice Maledetto Sta arrivando C'ha pochissima vita Stiamo arrivando A 10 di vita Bravo Bravissimi Spianto spianto Arrivo Eccolo Ottimo Finito Ok nice Bella ragazzi Ok prima fase conclusa Siamo ragazzi per ora i dominatori d'inferno Mentre Partervoizizder Ci sta urlando addosso Molto bene ragazzi Quindi procediamo Speriamo che la prossima metà sia gustosa Quanto la prima Chi si è addormentato non verrà perdonato Nice Vediamo Anche l'ina Logico Allora 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 io il rush su B Ce l'ho nell'anima Però bisogna rushare ragazzi Non ci si ferma Eh Signiamo di rush su B Allora Rush B guys Like a fish Don't stop please now Don't stop me now Nera Io sono la bomba Io vedo tutti quanti che laggano infatti C'è Credo si la serva a sto punto Però dobbiamo Allora rush su B ragazzi Mi sa che è già fallito Sì Ragazzi attenzione però Perché questi fanno il giro da dietro Dopo Quindi qualcuno si guardi le spalle Bravissimo qua sta planta Mi raccomando Bravi raga Tenete a zona eh Non vi esponete Perché vi esponete Qua sta Dobbiamo andare qui Ok Ottimo Bravissimo Aiutalo eh Vai Far a piano È ancora lì eh Bravissimo ragazzi Nice Bello che ha fatto più scagareggio totale Lo Strenus Ma nessuno si meraviglia di questo Molto bene 10-6 Partita classicissima Più classica di così Suono le campane Un attimo solo Suono le campane Molto bene Go A guys Go A Sfondiamo mid Va bene Facciamo lo sfondamento di mid Con la doppia flash Io destra Te sinistra Non mi fallire Jonas Io mi fido Vai Io non fallisco mai Chiaro Morti tutti Il vecchio Esatto Morti tutti Adesso Adesso vedo un hacker che vola Spaccando vasi Questo lo faccio io Ok Quando vuoi Dish per Vai flash Vai flash Vai flash Ok Attenzione si Flashiamo sicuramente lui Vai Io destra Ok Planto Vai Ok Planto effettuato Le rimango due Le due arance Ah no Cosa sono poi Che frutti sono Vabbè Non guardate i frutti Eccolo Sta arrivando da long Si Raupe Nice Ho cercato la testa Perciò Però grazie Si Ho visto un movimento Da jaguaro Pensavo fossi tu Ah ok Ti vedo Ti vedo Passi Ce la guasta Ce la guasta Nice Bellissima 611 ragazzi Ancora classica Ancora noi Spariamo al cielo Va bene ok Allora io Sono quasi indeciso Se lasciare questo Galila R A terra Per i posteri Oppure no Questo ok Ok niente Anche lui se l'è preso Guasta rifacciamo Il nostro sfondamento Perché non ha avuto effetto Come volevamo Quindi possiamo rifarlo Tu vai verso destra Allora Hey guys Go hey again Io vado sempre Verso destra Tu sinistra Un'opinione Una massa Stremus life Andiamo Don't stop me now Sei Flash 3 2 1 Flash Ah ok Attenzione Go Vai Chiesetta Fatto Ok nice Stanno arrivando Uno dall'appartamentino E uno da Roger Fatto Fatto anche l'altro Il plant ragazzi Su B Il plant è su B Eh lo so Il plant ragazzi Su B Quindi vado B Oh ma no È ragione Eh sì Smocco E me ne vado Questo è un pazzo Cioè Ha letto un'azione Che ha visto solo lui Se n'è andato da solo Su B Non c'era nessuno Logicamente Tanto ha ragione lui Sì Diciamo che ha ragione lui Ma ha rischiato Ha rischiato di brutto Se lo prendevano Quando era da solo A quest'ora ragazzi Non si festeggiava No infatti Io ci rimango secco 10 a 1 Sta a vedere It is going to explode Nice Mamaculus Non avevo dubbi Cappero Ci ho lasciato le chiappe Logicamente Nice Va bene ragazzi 6-12 Nessuna preoccupazione Per ora Anche se siamo contro Il team dei SED Ragazzi attenzione Ci sono i SED Ma vediamo un po' Io mi scioppo Cosa scioppo La K47 Life Tecnone Adesso non sono più eco Esatto Ascolta Abbiamo fatto quello sfondamento Mid Che non è Non è ancora funzionato Questa Quindi io Sinceramente Non ho mai trovato nessuno Hey guys Hey guys again C'è sempre il tizio Che sta su Attenzione Uno sopra Ok Questo l'ho preso È su finestra Attenzione Su balcone Flasho e vado Vai dall'appartamento Mi sono flashato da solo Nice Io ho tolto 8 a 40 di vita Eh infatti No 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 Arrivano Eh beh Ah ma non ti Io sono morto Ah ok Verde Basta Balcone Balcone Merda Il balcone No 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 Il balcone Dietro di noi Dietro di noi No no Un bel balcone Ah fuck Ma fatta Da dove Eh ho cominciato a correre Come un'oca Come una di queste galline Concentrati arrivo Hai 55 secondi Ce la puoi fare La bomba è sua Devi solo ammazzarli Esatto Lì Sotto di te Alla tua destra Solito posto a destra Quella dopo Questa No Non lo ho capito Ok Nice vai Esci fuori Bravissimo Vaci di prepotenza subito Hai 30 secondi su A Dai nice Ah 20 secondi Non so che ho 20 secondi Ce la devi fare Calma ti concentri Ecco Cioè devi star concentrato Per quanto noi ti parlavamo sopra Però non Non dar tutto per perso Ce la posso fare No no infatti Non mi interessava la bomba Mi interessava lui Sì no in quel caso lì Cerca di accoppare l'avversario Cosa ha fatto comprate Eh sì compriamo Compriamo l'ultima volta Però è rischioso Allora aspetta qua si sente che non sta comprando No no lui ha comprato una carta Ok Quindi Comprate comprate Sì faccio un fucile a canne mozze Dobbiamo cercare di vincerla questa Cos'è sta roba Da fuck ho comprato ve lo sbagliato No così strenus Proviamo quasi su B Provo a pushar su B No non pusho niente su B Si fa secchi in due Bravissimo basta Non sono stato io Nice Continua a vedere cose che non ci sono È dietro le casse Dietro le casse Dietro lì Bravissimi Andate avanti Subito 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 Go guys Go guys Go guys Così tratti che avete qualche secondo Prima che arrivino da E sapete da dove arrivano Quindi camperatevi E fate in modo che questo giorno Sia fottutamente vostro Guys come on Molto bene Nascosto lì E non farti vedere Perfetto Ah io sto qui perché ho 30 minuti Sì sì ma va benissimo Va benissimo lì eh Va benissimo Allora uno arriva da chiesetta Questa Calmo Vi ritira fuori la k Ricarica Hai 4 colpi Mi basta Ok Non sembra rettolo Non basta Bravissimi raga bravi Nice Te l'ho detto Sono basta Lascia fare strelus Basteranno Ok 13 Uno l'hai ucciso te L'altro basta Allora Boh Vi ho fatto bene a comprare 7-13 No ma su B No ma su B infatti Solitamente sono sempre in due Quindi di fatto Ce la possiamo fare Io tornerei su A comunque adesso Perché Manca solamente che ci raddoppiano un altro E siamo finiti Lo proviamo da B No scusa Sì guarda Io vado un attimo sul balconcino di A Perché prima ho visto che c'era il tizio Che se ne andava ben bene lì Nice Ok perfetto Colpo epico Dove l'hai preso? L'ho preso dentro la finestra Che era il suo appartamento Ottimo Forza ragazzi Forza Bravissimi Nice Entriamo Ti spacchiamo tutto Attenzione a chiesetta Solito Benissimo Vado in pit Perfetto Teniamoli eh Ce la possiamo fare tranquillamente qua 4 contro 2 Ce la dobbiamo fare Tu guardi short? Io ti sto guardando balcone E no short E c'è Beppe Ok Stai guardando mid Però è molto molto Ok uno lo Questo è morto Bravissimo 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 Bravo Beppe Nice Spara al cielo sempre Qualche gallina deve saltare oggi Perfetto Tipico terrorista Va bene Ogni scusa è buona per sparare al cielo Allora vediamo Va bene Cosa vogliamo fare guys? Io proverò a resistere su A Su A Continua a bombardare su A Va bene Ga e Ga Sì Guys Gai 6 Se vuoi assedio tutto Adesso c'hai capito Guys direi No vabbè fail Fail life Va bene Dai Io faccio Va bene Tipico Strenus che li muoiono 7 neuroni In una volta Ga Va bene Questi ragazzi sono gli effetti di CSGO A lungo termine Fa male veramente Ok Non è andato Ok In appartamento Spondiamo da mid Va bene Arrivo Chi sei? Destro o sinistra Io non ho flash Flash io destra Voi due sinistra Go Nice No è dietro di noi ragazzi Dietro di noi ha fatto il giro da banana Ah fuck Bomba drop per terra L'ha già ammazzato dietro Prendete la bomba Nooo con cecchino Nooo con cecchino Pensavo Eh Ah ha fatto un giro Qua è rimasto Esatto Rimasto solo Qua abbiamo cappellato perché non abbiamo guardato dietro ragazzi C'è ha fatto il giro da banana rushando e ci hanno fatto tutti Da fuck Mamma mia No amico vai la pistola No sta scazzato Eh qui Se lo passava ce la poteva anche fare No più che altro qui abbiamo Sì Stiamo attenti a rush su B Perché chiaramente quegli altri Lo facciamo Su B Sì È il momento dello shot time ragazzi Io prendo un canno e mozze Spero che vada tutto per il meglio Come da chi tempo Andiamo Anche il tipo dice B Guys B Be like a fish We are god Come on guys Non credo a una parola di quello che ho detto Però possiamo andare avanti Attenzione alla macchina Già Solita macchina Bomba Doppia bomba Bravissimi Il problema è che se l'ha appena anche io Fatto Un andato Andiamo raga Forza 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 E' un altro Solito posto Solito posto Andiamo ragazzi Non ci credo Se la possiamo ancora fare Piantate Pianta subito Guasta Chiesetta è già preso Guasta Non andare in chiesetta Ariman vai benissimo Esatto Meglio ancora qui Benissimo Ok E Guasta Non ti esporre più di tanto Aspettate Chiesetta 1 Chiesetta 2 Chiesetta 2 Uno è morto in chiesetta Quindi vi arriva dietro Si pensa Guasta Ok Bravo Guasta Beppe Beppe è il tuo È l'ultimo Ah è banana È banana È banana Aspettate Aspettate Bravo Beppe Sei da solo Beppe No Ah No così Eh ma Pensavo Questo è stato Ho fatto una scemento Ma pensavo fosse lui Dietro No no È morto Non te l'ho detto Per non deconcentrarti Ma questa Questa è grave Questa è grave Perché avevamo piattato tranquilli No Peccato perché eravate Due contro uno E entrambi avete Avete rischiato tantissimo Infatti è andata così Va bene dai Calmi tutti Subì adesso però Non so se tornare Andiamo 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 No words Ce la possiamo fare Peccato raga Mi raccomando Non rischiate più Del dovuto Che succede Ste cose Esatto Come on Come on Come on Chop Chop Ma ha fatto ucciderti Guido Eh perché Si è esposto anche lui Preso C'è la guppia Bravissimi Ok andiamo ragazzi Andiamo Andiamo Forza sua Forza sua Full non stop Dai Buttati di sotto Che ci sono anch'io Buttati di sotto Che è morbido Come on Let's go Balcone Guardate Balcone lo guardo io Si Basta Trova esatto Una posizione in chiesetta Per esempio Dimmi te Ti guardo short E balcone Ok c'è un gran ratatullio Di gente Che si muove Bravi ragazzi Nice Very nice Pulita elegante Qui ci si è rifatti da prima Non si può fare altro Che pareggiare adesso Quindi portiamocela a casa Velocemente E diamo un calcione Nel sedere A tutti questi Sad Col punto esclamativo Sad D-life Molto bene Lo vogliamo Ti aspettavamo Io Se volete ragazzi Proveremmo B Non se lo possono aspettare E diamo più Guys Rush B We can do it Come on Facciamo un russo Quando parlo inglese Nice Andiamo Attenzione Solito discorso Subì Mamma mia Mamma mia C'è 10 di vita No Ma ha fatto Ma ha fatto lì dietro Ok perfetto Forza ragazzi Forza Sono sempre due Ne avete già ucciso uno Non temporeggiate Se aspettate la fine State aspettando Ok Bravo Bravissimo È arrivato già l'altro È arrivato già l'altro Infatti sì Perché è troppo tempo Ci ha messo due ore Non lo so Bravissimi Nice guys Ne rimane solamente uno Infatti Infatti mi aveva dato L'assist Due contro uno Chiaramente questi Sono i due Crispis Ci affidiamo ai Crispis Cripsis Diventa Crispis Va bene Il più croccante Dei nostri giocatori Va bene Se gli fa Il ninja di più Urlo Ed esco dalla partita Sì anch'io Lo dico Garantisco Ma gliel'ha Gliel'ha messa Anche perché Perché fa la smoke Fuse Sì Vabbè che si sente Quando defusa Però è rischioso Forse per non fargli Vedere dove ha plantato Però un po' Sì quello ok Però nel senso A ver come Meno uno Dai che ce la fanno a morire Nice In questa lussureggiante partita Ragazzi Il nostro Ariman Disciper Anche livellato E Non solo questo Ragazzi Ariman Disciper Anche un bellissimo canale Che trovate Cliccando sulla sua faccia Di Walter White Altra cosa importantissima Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piaccione Commentate Condividete Passate la pagina Facebook Se siete però nell'anima E volete stare in contatto Con lo Strenus di Baltimore Live Io ragazzi Chiaramente vi saluto ancora Vi ringrazio per questa grande partita Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Strenus E chiaramente Noi ci becchiamo Al prossimo video E a tutte le serie che portiamo avanti Ciao a tutti ragazzi Ciao In questa facciata puoi trovare Gli ultimi due video che ho fatto E basterà cliccare su di essi Per raggiungerli Se il video che hai appena visto Ti è piaciuto Lascia un mi piace Lascia un commento E se hai voglia Iscriviti al canale Per rimanere sempre aggiornato Alla prossima Grazie